I tifosi di Nerazzurri un saluto e ben ritrovati da Umberto Cabella, dallo stadio La Marmora Pozzo di Biella per il sesto atto della pool scudetto femminile. Juventus Inter, allora recupero di Magull, palla nello spazio per Bonfantini, il tocco per Polli, calcia in porta Polli! Inter in vantaggio con quest'azione meravigliosa che porta la firma conclusiva di Elisa Polli. E vediamo Magull, serve bene Bonfantini che vede Polli che è molto fredda ad andare direttamente sul primo palo con Peromagnan che si aspettava la conclusione dalla parte opposta. Buona sea, calcia in porta! Controlla Sarazzetigna. Ci ha provato da fuori la numero 11 bianconera. De Pedersen larga per Bonfantini che converge verso il centro, va col sinistro, la palla dentro, controlla Bugeia. Il tocco dietro per Milinkovic, che calcia in porta! Conclusione centrale, si accartoccia per Romagnan, però bene, molto bene questa azione dell'Inter. Attenzione a questo tocco per Cascarino, si gira centralmente il tocco per Girelli, calcia in porta! Palla fuori di poco, qui Juventus è pericolosa, Inter che tiene possesso. Ora il tocco per Milinkovic nello spazio, rincorsa da Cafferata. Punta l'area di rigore Milinkovic, si prende il fondo, il cross dietro. Palla che arriva da Bugeia, grandestro di Eli Bugeia e arriva il 2-0 dell'Inter. Grande conclusione da fuori di Bugeia dopo una bellissima azione di Milinkovic. Benzini, lancio lungo la testa di Girelli per Bonansea, calcia in porta, palla fuori. Porta palla Tomà, detta il passaggio Biersten, lo tocca Fordos, non passa su Katie Bowen. Junge Pedersen, non deve perderla qui, attenzione, Tomà, calcia in porta! Si accartocia, Zetigna, l'occasione per la Juventus. Bugeia, rubo un pallone, detta il passaggio Jelcic, pallone per lei. Jelcic in area ha provato l'assist. Quando forse poteva provare la conclusione in porta, ma è Jelcic. Altro pallone dentro della Juventus, contro la Girelli. calcio in porta, la risposta di Zetigna l'abito dice che basta così l'Inter conquista finalmente e con merito la prima vittoria contro la Juventus decidono le reti nel primo tempo di Elisa Polli al diciannovesimo e poi raddoppio al quarantaquattresimo di Eli Bugeia Grazie